Che cosa hai visto quella notte? Due uomini, due ragazze. Pensi che io sia uguale a Laura? Sì. Che cosa hai visto? Sangue. Quando? Io e Laura fingevamo di essere sorelle. Chi l'ha uccisa? Se rimane al buio per qualche tempo, dopo un po' vedi tutto molto chiaramente. I segreti di Twin Peaks. Mercoledì alle 20.40 su Canale 5.